Gerogia Repubblica cieca termina con un pareggio 1 a 1 oggi 22 giugno 2024. A segnare per quanto riguarda la Gerogia è stato Georges Mikausati, è un gol su rigore. Per quanto riguarda invece la formazione chiamata Repubblica cieca, a segnare il secondo tempo è stato Patrick Schick. Dunque il pareggio arriva. Le statistiche, andiamone a vedere nel dettaglio, sono buonissime per quanto riguarda la Repubblica cieca, scarse per quanto riguarda la Gerogia. Infatti la Repubblica cieca ha molto più possesso di palla, ha molti più passaggi ed ha una precisione di passaggi più elevata a livello percentuale. Diciamo quindi che la Repubblica cieca dal punto di vista statistico gioca molto meglio rispetto alla Gerogia. Il risultato finale comunque è un pareggio 1 a 1. Bene, grazie a tutti, vedete il video di YouTube, il video termina qua, iscrivetevi se vi fa, commentate una buona sera da voi da narratori italiani.